Cari spettatori del Grande Fratello, benvenuti a un nuovo episodio che vi porterà nel cuore pulsante delle emozioni e delle dinamiche intriganti della casa più famosa d'Italia. Siamo qui per svelarvi gli ultimi retroscena e segreti che stanno agitando il triangolo amoroso tra Mirko Brunetti, Perla Vattiero e Greta Rossetti. Ma aspettate un attimo, perché sembra che ci sia un nuovo protagonista pronto a entrare in scena, Luca Vetrone, il fascinoso ex-naufrago dell'Isola dei Famosi. Che cosa succederebbe se questo cuoco fosse aggiunto al nostro mix già esplosivo? Sintonizzatevi, perché oggi vi porteremo nel vortice di passioni e sorprese. Lasciate un like ed iscrivetevi al canale per nuovi aggiornamenti. Perla Vattiero, con il suo stile frizzante, è tornata a parlare di Luca Vetrone, rivelando dettagli succulenti sulla sua connessione con l'ex-naufrago. Ma non temete, perché la nostra Perla non delude mai in quanto ha onestà e schiettezza. Esteticamente è tanta roba, ha dichiarato, aprendo le porte a una possibile competizione nella casa. Vi immaginate Luca Vetrone nell'ambiente ad alta tensione del grande fratello? Perla ci stupisce con i suoi pensieri su di lui, descrivendolo come buono come il pane e un cucciolo davvero. Ma c'è di più dietro questa ammirazione? Cosa pensate di Luca e Perla? Vi piacerebbe come coppia? Scrivetelo nei commenti. E così, cari amici, rimanete con noi fino alla fine di questo episodio, perché le rivelazioni sulla vita amorosa nella casa stanno per raggiungere un nuovo apice. Non perdete l'occasione di essere parte di questa avventura emozionante. Iscrivetevi al nostro canale e mettete un like se volete saperne di più sul misterioso ingresso di Luca Vetrone. Cosa succederà quando il cuoco metterà piede nella casa? Solo il tempo ci dirà. Stay tuned! Chi conquisterà il cuore di Perlavatiero?